Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Buongiorno dalla redazione. Oramai nella guerra tra gestione commissariale della... ...informazione di TVI Molise. Informazione che quest'oggi parte parlando di sanità, in particolare dello scontro ormai in atto, uno scontro aperto tra la struttura commissariale, quindi Toma e Papa e i gemelli S.p.A. Toma e Papa, nello specifico nel corso di una conferenza stampa blindata, hanno confermato la loro intenzione di pagare una sola profilatura per ogni malato di tumore in radioterapia. Intanto parlano anche di un indebito di 18 milioni a carico della precedente gestione della cattolica e per questo hanno già chiamato in causa appunto il Vaticano. Ci racconta tutto il direttore Enzo Di Caetano. Sanità e la Fondazione Gemelli stanno scendendo in campo ai pesi massimi. Infatti di fronte alle affermazioni rilasciate da Toma e Papa in conferenza stampa, i vertici dell'Istituto di Contrada Tappino hanno deciso di chiedere l'intervento del Vaticano, o meglio dell'Università Cattolica di Roma, diretta emanazione della Santa Sede. Il motivo deriva da quanto dichiarato dai due commissari conferenza stampa a Campobasso. La coppia infatti ha ribadito l'intenzione di pagare solo una profilatura per ogni paziente che si sottopone a radioterapia presso il Gemelli. Qualunque sia il numero di sedute radioterapiche, l'ASREM riconoscerà al Gemelli solo una profilatura, una quarantina di euro circa, in base al tariffario nazionale. Il Gemelli fino a ieri ne fatturava una ogni seduta e continua ad asserire di essersi comportato correttamente, così come si fa in diverse regioni, come Lazio, Abruzzo e tante altre. Toma e Papa, al contrario, hanno mostrato alla stampa un parere del 2017 del Ministero della Salute per la Regione Campania, in cui si ribadisce che si paga una profilatura per ogni paziente. Insomma, due interpretazioni opposte tra loro. Ma c'è di più. Forte di questo parere, il commissario Toma ha mostrato l'elenco delle profilature pagate alla Cattolica di Campobasso dal 2015 al 2021. Secondo lui, pagamenti non dovuti per più di 18 milioni di euro, soldi che chiaramente verranno chiesti indietro alla Cattolica e non all'attuale gestione del Gemelli, arrivata solo da un anno in Molise. Di fronte a queste notizie, l'avvocato Fabio Verile, legale di Petracca, ha detto che ha informato di tutta la vicenda direttamente l'Università Cattolica di Roma, diretta emanazione del Vaticano, che vendette a Petracca la struttura. Insomma, alla fine la guerra della sanità apre un nuovo fronte, questa volta in Piazza San Pietro, perché i soldi, qualora fossero dovuti, dovranno essere sborsati dalle casse della Santa Sede. Sembra quasi una maledizione per i Molise. Prima il caso del broker termolese Gianluizzi Torzi e la vendita milionaria del Palazzo di Londra. Oggi i commissari della sanità molisana che battono cassa al Vaticano per gli indebiti pregressi. Non va proprio bene per i poveri molisani, perché tutto lascia pensare che Petracca mandenga la parola e da fine mese il Gemelli non accetterà più malati di tumore da curare in radioterapia. Toma, di fronte a questa ipotesi, parla della possibile apertura di un reparto al Gemelli e di un DEA di secondo livello al Cardarelli. Noi valutiamo i costi di tutto ciò che si potrebbe fare di meglio e di più. Addirittura stiamo valutando i costi di un eventuale policlinico universitario. Stiamo valutando i costi di un DEA di secondo livello. La verità è che appare difficilmente credibile la realizzazione di qualcosa del genere, visto che in tre anni l'ASREM non è stata capace di aprire neanche la torre Covid. Ora pensare di trasformare il Cardarelli in policlinico e far partire una nuova radioterapia lì, trovando gli specialisti necessari, sattando di sogni ad occhi aperti. In conclusione una butade, parole al vento, oltretutto pronunciate da un presidente commissario a scadenza ravvicinata. Un commissario che oltretutto, colpo di scena degli ultimi minuti, è stato convocato alle 15 di martedì dal Ministero della Salute per un faccia a faccia con il ministro Schillacci, che presumibilmente non sarà tenero. Iniziamo ora la nostra rassegna stampa. Vediamo quindi quali sono le notizie delle ultime ore. Iniziamo dai quotidiani online. Sul quotidiano del Molise l'annuncio di Toma riguardante le regionali del Molise. Si voterà infatti il 25 e il 26 giugno. Toma ha firmato il decreto, quindi per la prima volta alle urne in estate, per il rinnovo del Consiglio regionale. Come noto, il governatore aveva 60 giorni di tempo dalla scadenza naturale del mandato che cade il 22 aprile appunto per fissare la data dell'elezione del Presidente dell'Aggiunta per il rinnovo del Consiglio regionale. Molise oggi, guerra Toma Gemelli, scende in campo il Vaticano. La coppia, scrive Molise oggi, ha ribadito come avete appena sentito anche nel servizio l'intenzione di pagare solo una profilatura per ogni paziente che si sottopone a radioterapia presso il Gemelli, qualunque sia il numero di sedute radioterapiche, che l'ASREM riconoscerà quindi al Gemelli solo una profilatura, una quarantina di euro circa in base al tariffario nazionale. Bene, passiamo sui quotidiani online, quotidiani, scusate, cartacee in formato digitale. Iniziamo come sempre da Nuovo Molise, Toma si mette contro pure il Vaticano, Schillacci lo convoca d'urgenza a Roma, lo scontro sulla sanità muove i pesi massimi, quindi del Ministero e della Santa Sede. E poi, Papa, può continuare a fare anche l'avvocato di Toma? Questo è il giallo dell'interrogatorio del governatore. In procura alla convocazione da parte del giudice Viviana Di Palma, che poi ha portato gli avvisi di garanzia a Toma e alla sua giunta per abuso d'ufficio, era presente anche l'attuale subcommissario alla sanità, in qualità di legale ex consulente tecnico del Presidente della Regione. Non c'è dunque il conflitto di interesse rilevato dall'anticorruzione. Le altre notizie, la crescita, ripartono tutti, non il Molise. Dopo il Covid, tutte le regioni dell'Unione Europea hanno registrato una crescita del PIL reale, tranne la nostra regione. Poi, i dati del TAR si litiga di più per la sanità. Il Molise si litiga di più per la sanità, lo rivela il TAR regionale, 87 ricorsi nel 2022. Poi ancora, eolico selvaggio, sfruttati 100 volte più dell'Emilia Romagna, con una selva di pale selvagge sul territorio. Passiamo ora a vedere quali sono le notizie di primo piano Molise. Toma ha firmato il decreto, si vota il 25 e il 26 giugno, salta l'ipotesi di accorpare regionali e amministrative. Il Presidente conferma l'aggiunciata intenzione di procrastinare la legislatura fino all'ultimo giorno utile. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Così togliamo di mezzo le disquisizioni sulle date. A centro pagina ancora la radioterapia, il caso si sposta al Ministero, vertice schillacitoma, summit in programma alle 15, ma sul gemelli commisario e sub tirano dritto. Stiamo applicando, dicono, il tarifario nazionale. Poi l'inaugurazione, tari, il contenzioso sanitario al primo posto delle cause trattate in Molise. Senza pulizie e guardiania, siamo a Campobasso, chiuso il centro per l'impiego. E poi Guancarrito, ucciso da un'auto, esposto in procura di un'associazione che difende gli orsi. Immigrazione, centri di accoglienza, ritardi nei pagamenti, gestori esasperati, indebitati fino al collo, falliamo. Sempre in prima pagina, dentro la notizia, Boiano, serie, le condizioni del 48enne caduto dal tetto, la comunità spera in un miracolo. E poi, 8 mila bottiglie, vodka contraffatta, sequestra in tutta Italia, blitz della finanza, anche a Campobasso. Spostiamoci nelle pagine interne. Nel radioterapia, un reparto pubblico è nei nostri piani, il commissario è sub. Sulle schermature stiamo applicando il nomenclatore. Toma dice, capisco i problemi di sostenibilità del Gemelli, ma vanno risolti a Roma. Schillaci intanto convoca una riunione con il commissario. Andiamo a pagina 3. Toma ha firmato il decreto per le regionali, si torna al voto il 25 e il 26 giugno. Il governatore ha formalizzato ieri l'intenzione annunciata da tempo e ribadita qualche giorno fa. Niente accorpamento, dunque, con le amministrative. E poi, lo dicevamo prima, la sanità è il primo terreno di scontro. I ricorsi afforlano il ruolo della giustizia amministrativa. Nel 2022, le 87 cause avviate hanno rappresentato il 25% dei contenziosi trattati appunto dal TAR. Inaugurato il nuovo anno, in organico, manca un magistrato. Andiamo ora a vedere quali le notizie sulla pagina di Campobasso. Ecoforum, il piano regionale dei rifiuti al centro dei lavori. Domani l'evento promosso da Legambiente e Camera di Commercio si punta a una revisione del programma. Da Campobasso ci spostiamo a Isernia, utilitaria contro Pullman, un ferito e tanta paura. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per l'acqua sul Furea, sul bus di linea decine di pendolari. E poi il Lancellotta, questo è l'approfondimento di oggi su primo piano Moliso. Una trappola a manto erboso da rizzollare, l'amministrazione intervenga. Quindi questo l'appello. Venafro, fuga per la libertà, questa è la storia di Keita, commuove il Giordano, oggi il 19enne della Guinea, è ospite del SAI, il Consiglio ai Giovani. Voi potete studiare e avete tutti gli strumenti per cambiare il mondo, quindi fatelo. E poi sport e solidarietà, la Sien Basket Venafro trionfa dentro e fuori dal campo. Domenica scorsa partita speciale dedicata alla campagna di sensibilizzazione sulle malattie rare. Andiamo ora in Basso Molise, siamo sulla pagina di Termoli. In mattinata l'autopsia sulla salma della 55enne trovata senza vita venerdì al porto di Termoli. Della signora Patrizia Larivera si erano perse le tracce, lo ricordiamo, dal giorno precedente. E prosegue poi l'inchiesta sulla morte del 47enne di Rotello. Si attende il conferimento dell'incarico al medico legale. Ieri intanto è eseguito l'esame autoptico anche sulla 78enne deceduta al Vietri. Bene, per le notizie regionali è tutto. Ci spostiamo ora sulle prime dei quotidiani nazionali. Biden a Kiev, questo è il titolo della Corriere della Sera. Eroi Putin fallirà. L'abbraccio con Zelensky, lo vedete anche nella foto. Oggi arriva intanto Meloni, che ieri era in Polonia. Il nostro sostegno a 360 gradi. Quindi visita a sorpresa, ha informato il Cremlino. L'ha telefonata con la Premier. L'ira di Mosca attesa per il discorso dello Zar. E poi la partita tra gli alleati. Nomine, la Lega va all'attacco. Cambio di passo per Eni ed Enel. Ancora il super bonus, prove di intesa, una via per sbloccare i crediti. Le imprese al governo, la risposta sia rapida. Poi ancora il confronto per le primarie del PD. Bonaccini, Schleini in tv. Duello con poche scintille. Andiamo ora a vedere il titolo della Repubblica. Sfida a Putin, questo appunto il titolo in evidenza. Visita a sorpresa del presidente Biden nella capitale ucraina. Siete eroi, saremo sempre al vostro fianco, dice Biden. Con Zelensky ha discusso anche di missile a lungo raggio e caccia. Mosca avvisata all'ultimo. Evitate raid. Meloni oggi intanto a Kiev. L'Italia determinata nel sostegno militare. Andiamo ora su il fatto quotidiano. Spese pazze. Si indaga su Calderone e Marito. Corte dei conti e GDF. Ente pubblico come banco. Matto consulenti di lavoro. Numerose denunce confermano lo scoop del fatto. Quindi sprechi, regali e rimborsi per i pranzi dei due coniugi senza freni. E poi l'audace colpo della solita casta. Pure Fratelli d'Italia si arrende sui vitalizi. Dopo il Senato ora rischiano di ritornare anche alla Camera. In alto ancora Biden a Kiev che impalla Meloni. Cina a 12 punti per i negoziati. Gli Stati Uniti promettono armi ma non jet. Andiamo ora sul sole 24 ore. Super bonus. Crediti incagliati a 20 miliardi verso le compensazioni delle banche. Sfuma quindi l'idea di schierare la CDP per acquisire i crediti. Sì invece all'uso dei modelli F24. In alto ancora Biden. Visita storica a Kiev. Via a nuovi aiuti e armi. Oggi l'arrivo della Meloni. E poi Eurovita. Servono più capitali. Aumento fino a 400 milioni. Andiamo ora a vedere qual è l'apertura del mattino. Stesso argomento. Biden e Meloni uniti contro Kiev. Il presidente degli Stati Uniti da Zelensky. Messaggio a Putin che sta preparando la nuova offensiva. Oggi intanto l'arrivo della Premier. L'abbraccio con il leader ucraino. È una task force per l'energia. Ancora è super bonus. Il governo apre. F24 per sbloccare i crediti. Questo è il vertice convocato appunto dall'esecutivo. Bene. Spostiamoci ora a vedere qual è l'apertura invece della stampa di Torino. Meloni, Zelensky, patto di ferro. Tra la Premier e Biden. Colloquio telefonico dopo il mancato incontro. Una lunga attesa in aeroporto. Oggi faccia a faccia a Kiev. Ieri la visita a Varsavia. Parla intanto Tagliani. Occidente Unito. Difficile inviare i caccia. Vedete qui nella foto. Nella foto l'amico americano. I giochi pericolosi della Polonia. Il blitz del leader degli Stati Uniti fa infuriare Putin. Che dice è come Hitler. Andiamo avanti. Spostiamoci su avvenire. Tra escalation e pace. Biden a sorpresa va a Kiev. E promette sostegno senza cedimenti a Zelensky. Oggi la visita della Premier Meloni. Presentata la marcia Perugia-Assisi a un anno dall'inizio della guerra. Ridare voce alla politica. Stop alle armi. Presidente americano. L'offensiva di Putin sta finendo. La democrazia resiste. La missione italiana con il nodo degli aerei. E poi la chiesa americana. Piange il vescovo David O'Connell. Mistero sull'omicidio. L'ausiliare di Los Angeles era impegnato con i poveri nei conflitti sociali. Fermato un sospettato. Ancora il bonus. Bolla di 19 miliardi. L'ipotesi di compensazioni. Tavolo con banche e imprese. La Lega chiede cambio su Enel e Eni. Andiamo avanti. Spostiamoci su il giornale. Raggiri. Scusate. Vediamo qual è il titolo appunto del giornale. Raggiri e miliardi. Il bonus truffa. La misura voluta dai 5 stelle. Scrive appunto il giornale. È una voragine per i conti. Le intercettazioni sulla casa. Lo Stato si fa fregare. Forza Italia sprona invece il governo F24 per sbloccare i crediti. E poi le primarie del PD. Il confronto TV fra i candidati. Bonaccini prende in largo. Malash Lane ora spera nella CGL. Ancora migranti. Numeri sciocchi. In tre mesi 12 mila sbarchi. Altro che porti chiusi. Da inizio anno sono arrivati 12 mila 906 migranti. Il triplo, scrive il giornale dell'anno precedente. Quando ne sono arrivati invece 4 mila 701. E poi l'allarme si cita forniture elettriche, energie a rischio centrali al 50%. Spostiamoci ora su il manifesto a lungo raggio. Questo è il titolo a centro pagina. Sorprendendo tutti e avvertendo solo Mosca. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sbarca a Kiev. Abbraccia Zelensky a cui porta missili Patriot e 18 miliardi di aiuti. Ammonisce Putin. Siamo più uniti che mai, dice Biden. complica la mediazione intanto della Cina e mette nell'angolo l'Europa. Ancora il super bonus. Dopo il caos ora si tratta. Il governo incontra banche e costruttori alla ricerca di una soluzione sul blocco dei crediti. E poi nomine Salvini teme l'irrilevanza. Ci siamo anche noi per Eni ed Enel. Andiamo ancora avanti. Vediamo qual è l'apertura invece di Libero. Partita ucraina. Entra Giorgia Esce Macron. Il capo del governo oggi a Kiev. Da Zelensky. Che ieri invece ha visto Biden e ha criticato il presidente francese. Così l'Italia è tornata centrale. Ancora sul super bonus. Palazzo Ghigi non ha alternative. Rimediare al disastro del Movimento 5 Stelle. Poi a Firenze sono i rossi a picchiare. La verità sulla rissa tra studenti davanti al liceo. Bombe e carta. Scontri con la polizia in minaccia. Le violenze che i dem ignorano. Passaggio sul Covid. Il Covid è sconfitto. Battuto dalla scienza. Questo è quanto dice Bassetti. E in tre anni di pandemia. Bene. Andiamo infine a vedere quali sono le notizie della Gazzetta dello Sport. Coppa nostra. Questo è il titolo. Dopo la vittoria del Milan ci provano Napoli e Inter. Spalletti ha un gioco europeo. Enzaki sa come colpire. Tre italiane ai quarti. Come appunto è avvenuto nel 2006. Perché si può. Kvara aiuta Osimène nell'attacco all'Entracup. E poi Barella corre. Cala guida nella missione contro il Porto. In alto Juve Formula 4. Anantes, Idea Kostic. Vlachovic di Maria e Chiesa. Per quanto riguarda il calcio mercato. A sinistra spunta Carlos Augusto del Monza. Bene. Come sempre con le notizie della Gazzetta termina la nostra rassegna. Nel salutarvi vi rimando come ogni giorno al prossimo appuntamento in diretta. Che è alle 14 con le news del nostro telegiornale. Intanto a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Il meteo è offerto da Casa di cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi 21 febbraio. Il tempo sulla nostra regione si presenterà sereno alternato ad addensamenti nuvolosi. Nel complesso tuttavia ci si aspetta una giornata stabile e asciutta. Venti dai quadranti meridionali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 5 massima 17, Isernia minima 5 massima 13, Termoli minima 9 massima 14, Venafro minima 3 massima 14. Previsioni per domani 22 febbraio. Cielo variabile con ubi alternate a schiarite, addensamenti più consistenti lungo il litorale ma senza fenomeni. Venti dai quadranti meridionali, mare poco mosso. Temperature Campobasso minima 6 massima 13, Isernia minima 7 massima 13. Termoli minima 12 massima 14, Venafro minima 6 massima 16. Benvenuti all'oroscopo di oggi martedì 21 febbraio. Ariete, tra oggi e domenica c'è la possibilità di risvegliare le emozioni sopite. Potete sentirvi più forti e passionali in queste giornate d'inverno. Chi ha intenzione di parlare d'amore o di incontrare qualcuno può approfittare del quadro astrale favorevole, periodo particolare per il lavoro e chi pratica la stessa attività da anni potrebbe anche prendere una strada nuova. Toro. Questo periodo è di preparazione. A maggio ci saranno tante novità. Fase utile per le persone del segno che negli ultimi mesi hanno chiuso un amore oppure un lavoro. In queste giornate vi state danno da fare, sperimentando anche nuove attività lavorative. Attenzione a qualche polemica di troppo. Gemelli. Ultimamente le tensioni non sono mancate, anche se non si può dire che sia un periodo negativo. È un periodo però in cui vi dovete dare parecchio da fare. Entro la fine della primavera qualcuno sarà chiamato a fare qualcosa di nuovo. Cancro. Manca un po' di energia in queste ore. La prossima stagione però sarà ricca di riscatti e conferme. In genere vi capita di vivere momenti di forte agitazione e positività, alternati da altri in cui l'umore è in calo. Potreste sentirvi messi da parte in queste ore. Se vedete che ci sono troppe polemiche rimandate le discussioni alla prossima settimana. Leone. Nel corso delle prossime ore potrete recuperare. Le stelle sono favorevoli. È il momento migliore se dovete affrontare qualche cambiamento lavorativo. Giove è favorevole e potrebbe portare pure qualche contatto in più rispetto al solito. In amore ci vuole invece attenzione e se ci sono polemiche potreste arrabbiarvi facilmente. Vergine. La luna e il sole sono contrari e magari non siete nemmeno voi a fare polemiche, ma le persone che vi stanno intorno cercano di infastidirvi. Qualcuno a breve potrebbe fare una scelta riguardante un nuovo lavoro oppure il rinnovo di qualche accordo. Bilancia. Nel corso delle prossime ore dovete fare attenzione alle polemiche che nascono in amore. Anche perché poi da giovedì la situazione potrebbe anche complicarsi. Se qualcuno vi rimprovera sempre, specie se il partner, potreste anche arrabbiarvi e perdere la pazienza. Mercoledì ci sarà un piccolo recupero, ma poi l'amore non sarà un granché in queste giornate. Scorpione. Nell'ultimo periodo non ci sono stati grandi guadagni, oppure avete speso troppi soldi. Nel corso del fine settimana la luna non vi permetterà di fare tutto quello che avevate programmato e preventivato. Sarete quindi piuttosto nervosi senza capire neanche bene il motivo di questo stato d'animo. Sagittario. Settimane importanti per capire quale sarà il vostro ruolo in un lavoro oppure in un gruppo. Nella seconda parte dell'anno una scelta andrà fatta. Prendete coraggio. Potreste pensare di cambiare qualcosa, anche piccoli dettagli. Capricorno. Tra qualche giorno Saturno sarà favorevole e da maggio Giove interessante. Il successo lo si ottiene sulla base delle proprie capacità e l'astrologia può aiutarci a capire quando è meglio esporsi o tirarsi indietro. Per i progetti più impegnativi meglio aspettare la primavera. Acquario. Settimana da vivere con un sorriso non importa vincere sempre. L'importante è sapere che le persone hanno una bella idea di voi. È un periodo in cui ci sono pianeti favorevoli. Sarà più facile ottenere consensi. Giove e Venere sono dalla vostra parte. Marte è un aspetto buono e inoltre il vostro atteggiamento è molto più positivo rispetto al passato. Pesci. La settimana che è finita da poco non ha offerto soluzioni che però arriveranno da marzo. E state già pensando a una grande liberazione, a un progetto da avviare nel corso delle prossime settimane. Sta arrivando un momento di costruzione e di impeto quasi rivoluzionario. La settimana che è finita da vivere nel corso delle prossime settimane.